Ciao ragazzi, sono arrivato a Trofarello, al quale a Sabbioni Campora Motocross perché mi hanno invitato a girare e dopo un lungo viaggio, anche un po' nella nebbia, sono arrivato, quindi mi cambio, scarico la moto e vado a girare nelle due piste che hanno. Let's go, go! Let's 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 go! Wow, c'è pista! Bene ragazzi, giornata finita, molto molto fisica, ho girato circa due ore, che è tanto per me, di solito faccio un'ora, un'ora, un quarto, io ho fatto un sacco di manche sia nella pista un po' più facile, quella old school, quella famosa, sia nell'altra, quella nuova, una minetrack, abbastanza tosta perché ti rende naturissimo, i salti erano un po' più grossi però molto facili, però c'erano un sacco di buchi, di canali, era molto molto scattato, però giornata positiva, grazie mille troppo a lei per avermi invitato, grazie dei gadget e quando passerà questa pandemia, questo lockdown in generale, sicuramente tornerò perché è molto molto divertente. Alla prossima, ciao! Ciao!